I finanzieri della tenenza della Guardia di Finanza di Scalea hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con la quale è stata disposta la misura carceraria nei confronti del sindaco di Maierà, comune dell'Alto Tirreno Cosentino, Giacomo De Marco, espressione di una lista civica, e del figlio Gino. Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla medesima autorità giudiziaria avente ad oggetto quote societarie e nonché rapporti finanziari e beni immobili e immobili per un totale di un milione e mezzo di euro. Il provvedimento cautelare personale reale si colloca in un più ampio contesto di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola ed eseguite dai militari della tenenza della Guardia di Finanza di Scalea che hanno ad oggetto la verifica della leicità degli appalti pubblici e che in questo caso hanno consentito di delinare un quadro indiziario particolarmente grave in ordine condotte di bancarotta, fraudolenta e autoriciclaggio. Le attività investigative, concentrate sul fallimento di una società riconducibile al sindaco, sono state condotte attraverso una meticolosa attività di analisi di bilanci della documentazione contabile bancaria ed hanno fatto emergere numerose condotte dolosamente distrattive dei beni aziendali e finalizzate a danneggiare i creditori, tra cui l'erario ed una società in house della Regione Calabria. La condotta che maggiormente descrive la gravità dei comportamenti fraudolenti posti in essere ha riguardato la sottoscrizione di un contratto d'affitto di ramo d'azienda tra la società fallita e un'altra società amministrata dal figlio del sindaco, il cui scopo è stato quello di svuotare la società fallita in danno dei creditori. Ed è proprio l'aggiudicazione di questi appalti ad aver aggravato il quadro accusatorio, costituendo l'impiego in attività imprenditoriale di beni di origine illecita un'ipotesi di autoriciclaggio. Il risultato di questa attività è frutto dell'attenzione che la Procura della Repubblica di Paola e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza riservano nei confronti dell'imprenditoria calabrese sana, per tutelarla da tutte quelle forme di inquinamento dell'economia che derivano da illeciti arricchimenti. Grazie.